La prossima gara della Formula 1 della stagione sportiva che sta per concludersi è in programma domenica 13 novembre ed è l'Abu Dhabi Grand Prix che si disputerà su Yamas Marina Circuiti. Il circuito automobilistico di Abu Dhabi è entrato a far parte del calendario mondiale di Formula 1 a partire dalla stagione 2009, è stato disegnato da Hermann Tilke ed è localizzato sull'isola Yass a circa 30 minuti dalla città di Abu Dhabi. Il titolo mondiale piloti è già stato conquistato da Sebastian Vettel che con l'affermazione nel Gran Premio dell'India ha conseguito l'undicesima vittoria in stagione, la ventunesima in totale. Il pilota della Red Bull ha conquistato il primo Gran Kelem della carriera, ossia ha ottenuto Paul Vittoria, giro più veloce, nello stesso Gran Premio mantenendo la testa della gara per tutto il suo corso. Inoltre Vettel ha battuto anche il record del numero di giri in testa in una stagione che apparteneva dal 1992 al britannico Nigel Ernest James Mansell, soprannominato il Leone d'Inghilterra. Il Motor Show 2011, il Salone Internazionale dell'Automobile, in programma a Bologna Fiere dal 3 all'11 dicembre si pone l'obiettivo di far capire al grande pubblico del Salone cosa cambia nella strada e nell'auto. In un'area dedicata e definita a Gorà sono previste una serie di incontri, convegni e conferenze stampa che daranno la possibilità ad università, politecnici, centri ricerche e aziende di presentare le proprie innovazioni di prodotto. Inoltre la scenografia del padiglione 25 sarà paragonabile a quella di una vera e propria autostrada. L'obiettivo è quello di illustrare la strada del futuro entrando nel dettaglio dei miglioramenti che l'autostrada per l'Italia S.P.A. progetta per le infrastrutture del nostro paese con uno spazio dedicato all'ambiente e ai servizi per gli automobilisti. Il presidente Cordero di Montezemolo ed il team principal Stefano Domenicali hanno confermato sul circuito del Mugello che Fernando Alonso e Filippo Massa saranno i piloti della Ferrari anche per il 2012.